Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Delle Barri Social Night, puntata del mercoledì, benvenuti. Buonasera e bentrovati a tutti. Dai, raccontami subito cosa hai inserito in scaletta. Oggi partiamo a tutta energia. Nella prima parte parleremo appunto di energie, di comunità energetiche e di buone pratiche in giro per il mondo e magari qualche tiratina d'orecchio anche a delle cose che facciamo e potremmo evitare. Ma parleremo anche di giornata mondiale dell'udito, della prevenzione dei danni al nostro udito, soprattutto nei ragazzi che utilizzano in maniera prolungata le cuffiette, in metro, in bici, per fare compiti. Quindi ci darai dei consigli utili. Consigli utili per tutti. Ma tu o con un esperto? Con un esperto, naturalmente. Meno male. Terzo spazio, io mi sono vestito di tutto punto perché in arrivo qui in studio un mio idolo. Non svegliamo tutto, anche se io già lo so e vi invito a guardare perché sarà molto molto divertente l'intervista di Andrea di oggi. Allora, cominciamo subito come sempre con il commento delle notizie oggi dedicate all'ambiente, al clima e all'energia. Guardiamo. Un forte senso di appartenenza a questa città, questa città che si identifica nel suo grande amore per San Nicola. Santo che protegge questa città sin dal 1087 quando arrivarono per dono della provvidenza stessa le reliquie del santo qui a Bari. Quegli oggetti sacri avevano più che un valore economico per noi, hanno un valore simbolico e rappresentano anche i simboli attorno ai quali questa città ha costruito la propria identità. Quando c'è la fiducia nelle forze dell'ordine e nello Stato, i risultati grazie all'impegno degli uomini e delle donne e delle forze dell'ordine sicuramente non mancheranno. Tutto è tornato al suo posto, non potevamo che cominciare la puntata così con gli interventi raccolti da Roberto Maggi oggi durante la cerimonia di restituzione dei tesori di San Nicola alla Statua e alla Basilica. Questo altro ancora sarà commentato con noi, ci sarà C'è Pino Bruno, giornalista, volto noto della Rai ma anche giornalista e polis adesso ed è stato direttore di Tom's Hardware, una rivista veramente super interessante dedicata all'innovazione alle tecnologie. Oggi con Pino cercheremo un po' di guardare oltre i nostri steccati, i nostri confini ideali, ideologici e anche fisici, uscire da un po' di provincialismo proprio sul tema delle energie. Intanto buonasera e bentrovato. Grazie, grazie per l'invito, grazie a Telebari. Naturalmente cominciamo con un commento a San Nicola, sembra essere una vicenda chiusa questa del furto con la restituzione dei preziosi ma in realtà le indagini continuano, non sappiamo se è davvero l'ultima parola. Sembra una storia triste di emarginazione fino a questo punto, bravi gli agenti della Polizia di Stato, poveraccio questo, sembra proprio come dire a tutta l'etichetta dello sfigato. Sì, infatti poi insomma i tesori sono stati trovati nascosti semplicemente in una buca vicino a un casolare, ora si cercano i complici, seguiremo naturalmente nei nostri telegiornali le indagini, però si sembra una storia veramente di povertà assoluta. Assoluta. Andiamo a guardare però, adesso cambiamo totalmente argomento e parliamo di energie e di clima perché grazie a uno spunto di Pino Bruno noi abbiamo pubblicato sul nostro sito telebari.it uno degli articoli, devo dire, che ha avuto più successo perché le immagini sono davvero efficaci. Bari, ecco gli effetti dei cambiamenti climatici, la simulazione dei ricercatori di Montréal. Prego alla regia di farci vedere proprio le foto perché Pino tu sulla tua bacheca Facebook, che è sempre fonte di grandi curiosità, avevi pubblicato questa simulazione. Se i cambiamenti climatici continueranno così sarà Bari, una visione inedita, insolita e speriamo più lontano possibile dalla realtà, che fa veramente impressione. Però rende l'idea. Sì, noi speriamo ovviamente che non accada mai, che non vedremo mai di persona immagini così. D'altronde questa simulazione è frutto di un lavoro di ricerca molto molto approfondito, scienziati, esperti del clima, perché, come dire, prima la pandemia, poi la guerra, ci stanno distraendo dal problema numero uno dell'umanità, che è quello appunto dei cambiamenti climatici imminenti. Pensate, nelle regioni settentrionali d'Italia non piove da 100 giorni, forse sta cominciando a piovere proprio in queste ore. E nel sud invece ci avviamo la desertificazione o comunque a eventi climatici sempre più bruschi, sempre più violenti, sempre più imprevedibili. E quindi il problema del clima, il problema della salvaguardia dell'ambiente e del clima deve essere sempre al centro della nostra attenzione. E poi ricordiamo ovviamente ci sono tanti problemi collegati, comprese anche migrazioni di massa da interi posti che diventano invivibili, quindi nessuno deve sottovalutare queste questioni. E ricordarcelo c'è appunto spesso Pino Bruno. Mostriamo alcuni articoli veramente interessanti, originali, pubblicati su Eppoli Spari. Ne ho scelto uno per cominciare, le comunità energetiche per produrre profitti e lavoro. Come dicevo prima, Pino ci aiuta un po' ad andare oltre i nostri steccati e a riflettere sulle buone pratiche. In questo caso tu ci racconti che cosa significa provare a essere autosufficienti a livello energetico, naturalmente con fonti rinnovabili. Succede anche in Puglia tra l'altro. Certo, succede in Puglia, c'è questa comunità energetica straordinaria nel Salento. E' un'esperienza che è cominciata parecchi anni fa, quindi quando produrre energia da fonti rinnovabili, quindi dal vento e dal sole, non era neanche di moda. Loro hanno cominciato, hanno messo fotovoltaici sui tetti, ma soprattutto la comunità energetica significa autoproduzione e autoconsumo di energia, cioè l'energia che si produce. Pensate a quanti tetti abbiamo nelle città, tetti delle case, degli uffici, delle zone industriali, dei capannoni delle zone industriali. Tutti questi tetti potrebbero produrre energia che potremmo consumare e invece di consumare gas e petrolio, che tra l'altro abbiamo visto, come dire, costano tanto e arrivano quasi sempre da fonti complesse dal punto di vista geopolitico. E' questo la guerra, proprio ha riportato all'attenzione della cronaca quotidiana il problema dell'approvvigionamento energetico. Tu ci inviti, in questo articolo che ora vediamo, a evitare i pregiudizi, le indignazioni a buon mercato di chi protesta senza conoscere nella tua rubrica danni collaterali, citi proprio la sollevazione popolare contro alcuni parchi eolici offshore e ci racconti invece che è possibile approcciarsi al tema in maniera diversa. Certo, perché oggi la produzione eolica mondiale si sta orientando verso l'offshore, sul eolico galleggiante, lontano dalle coste, accade a largo delle coste dei Paesi Bassi, accade a largo delle coste della Danimarca, del Regno Unito, della Francia. Qui ci sono dei progetti concreti per installare impianti eolici, vere e proprie centrali eoliche galleggianti, a largo delle coste salentine. A largo significa veramente a molte miglia dalla costa, significa che quando vedi una pala eolica e ci deve essere tramontana, vento terzo, quindi cielo pulito, si vede un puntino all'orizzonte. Questo lo vedo regolarmente in Nord Europa e non fa male a nessuno, non fa male a nessuno produrre energia da fonti rinnovabili. Fa male costruire villette sul bagnasciuga, fa male speculazione edilizia sulle coste, devastare. Questo fa male, veramente. È di buone pratiche, ve ne cito una, poi vedremo una pala eolica che è comparsa nel porto di Bari. Però prima faccio vedere un'altra buona pratica che ci ha raccontato Pino in un suo pezzo, una discarica che si trasforma in un museo e tu ci dici appunto abbiamo tutti da imparare. E dovremmo avere proprio la fotografia della discarica di Peccioli, spero la pronuncia sia corretta, che è diventata un museo, bellissimo. Tra l'altro questo è il sito internet, parla anche di eventi, di percorsi, quindi super frequentata dagli studenti. Si può fare Pino? Si può fare altrove, i rifiuti sono una risorsa, i rifiuti, come dire, noi mandiamo a bruciare i rifiuti nei termovalorizzatori dell'Emilia Romagna e del Veneto, dalla Puglia per intenderci. In altre località italiane, ma soprattutto europee, i rifiuti diventano una risorsa, i rifiuti possono essere usati per riscaldare le case, per teleriscaldare le case, per produrre energia rinnovabile, perché i rifiuti d'altronde non possiamo continuare ad accumularli nelle discariche. Guardiamo le immagini allora, prima di passare al successivo argomento, proprio della palla eolica, la prima che è arrivata nel porto di Bari. Lo ha comunicato ieri proprio il porto, dice, la prima volta in Italia, con insomma un abbattimento notevole di chili di CO2, di anidride carbonica. Abbiamo anche il video di questa palla, sono immagini che sono certe a te piacciono, fanno piacere. Ma sì, fanno piacere moltissimo, perché quella palla che gira significa CO2 in meno da immettere in atmosfera, significa meno petrolio e meno gas consumato. Tra l'altro, insisto, pensiamo a tutti i luoghi in cui installare pale di questo tipo, tra l'altro, come vedete, con questo tipo di rotori, sono differenti e anche meno invasive, meno impattanti dal punto di vista paesaggistico. Mettiamole in tutti i luoghi in cui è possibile mettere senza avere impatti negativi sull'ambiente, sul paesaggio. Ma mettiamole. Senza, ovviamente, evitando le speculazioni, perché poi, insomma, a volte purtroppo è capitato che se ne è un po' abusato. Però non credo che noi qui abbiamo paesaggi inviolabili, per cui sono assolutamente d'accordo con te. Andiamo ancora con un altro pezzo, sostenibilità del territorio e non si vive di soli rendering. Qui molti baresi sicuramente rizzeranno le antenne, perché è una parola che viene spesso ripetuta. Fai l'esempio il caso di Malmo, che è una città sostenibile, ma per davvero. Il problema della sostenibilità, delle città sostenibili, è un problema soprattutto di strategia complessiva. Cioè non ci possono essere tanti episodi slegati, scollegati l'uno dall'altro. Creare una città sostenibile significa avere un progetto chiaro, urbanistico, quindi di produzione di energia, di smaltimento corretto dei rifiuti, di riuso delle acque. Pensiamo a quanta acqua sprechiamo perché la lasciamo piovere via verso il mare senza conservarla correttamente, senza usarla, senza riusarla. È un problema di strategia. Io dico che un eccesso di rendering a volte determina un effetto boomerang dal punto di vista della comunicazione, nel senso che si alza l'aspettativa del cittadino e poi questa aspettativa viene delusa poi dai risultati. Un esempio recente sono i giardinetti della vecchia caserma Rossani. Abbiamo aspettato più di dieci anni quei giardinetti. Insomma si poteva fare meglio, per carità, meglio del degrado che c'era prima. Ma il problema non è accontentarsi. Il problema è che si chiamare parco, un giardino fatto soprattutto di cemento e di asfalto, ecco, le parole sono importanti e hanno un significato preciso. E per questo vi invito a leggere gli articoli di Pino Bruno perché poi invece ci racconta, ci catapulta, spesso nel nord Europa, duole dirlo ma c'è poco da fare, sono un modello per noi di civiltà, di avanguardia, cosa che, ripeto, volendo si possono tranquillamente fare ma spesso qui non ci si pensa. E a proposito di rendering, qui davvero ti provo con un po' quello che abbiamo pubblicato oggi, Bari, lavori sul lungomare, in arrivo le piste ciclabili light in modalità promiscua, saranno sulla carreggiata. Ce ne saranno diverse nel centro città, un po' come il corso Vittorio Emanuele, qui non si toglierà spazio alla carreggiata, insomma si ricaveranno queste piste. È sufficiente, cioè è vero, è importante parlare di piste ciclabili, soprattutto di metterle in sicurezza. Però a volte sembra sempre che sia un po' un contentino aggiunto per i ciclisti. Il problema della cicla... Il problema della cicla... Il problema della cicla... Malmo, Rotterdam, Amsterdam ci insegnano che il problema della mobilità lenta, della mobilità dolce è un problema soprattutto di sicurezza. Cioè non si può dire, non si può chiedere ai cittadini, andate in bicicletta, ma per andare in bicicletta io ho bisogno di sicurezza, per avere sicurezza io ho bisogno di piste ciclabili che mi proteggano dalle automobili, che proteggano i ciclisti urbani dalle automobili. Le light sono un compromesso che io sinceramente non comprendo. Per me la pista ciclabile, d'altronde, insisto, nelle città più ciclabili del mondo, le piste ciclabili sono protette. Pino, allora siamo in chiusura, però ricordiamo a chi ci segue dove ti possono leggere, perché questi sono tutti spunti a produzione quasi quotidiana e assolutamente interessanti per catapultarci un po' fuori dalla nostra provincia del mondo. Io scrivo appunto questa rubrica sul settimanale Polis Bari, www.epolisbari.com, la mia rubrica si chiama Danni collaterali, poi intervengo ogni tanto su Facebook, sui giornali che mi ospitano, che mi chiedono interventi. Come noi, spesso, devo dire, rubiamo gli spunti da Pino Bruno. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi per avermi invitato e buon lavoro. Ti aspettiamo perché tornerai sicuramente a trovarci. Voi restate con noi perché tra poco parliamo di prevenzione in tema di udito. A tra poco.